Ok, vedo il robot sulla piattaforma a destra Dopo il punto è distrutto Deve esserci un modo Oh, la gru ha spostato il cristallo Potrebbe essere utile per arrivare all'entropo Oh, la gru ha spostato E voi che caspita ci fate qui? Torno dal capo ingegnere con un messaggio importante No, Sam Sempre alla ricerca di se stessa Grazie La soluzione del messaggio è più vicina Ci sono tutti Grazie Ora tornate alla stazione di controllo E vediamo cosa hanno raccolto questi piccoletti Dall'altra parte Grazie La soluzione del messaggio è più vicina C'è dio E riunico E risposto E risposto E risposto E risposto Chattava E risposto Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.